Siamo all'interno della cucina della trattoria Le Zie, per preparare cosa? Baccalà con le patate, tipico piatto salentino. Gli ingredienti? Patate, prezzemolo, pomodoro, cipolla, sale e pepe, parmigiano, una spolveratina o pecorino per chi preferisce. Abbiamo messo le patate condite con cipolla, pomodoro, prezzemolo, sale, pepe, olio d'oliva e una spolverata di formaggio. Dopodiché va sul fuoco, quarto d'ora e il piatto è pronto. Baccalà con le patate è pronto, possiamo andare a tavola. Grazie a tutti.